Capana, si dice che dal prossimo giro punti in palio, aumenta il ritmo di questa batteria di finale Per i metri c'è un allungo, c'è un allungo di due a tre di due a tre di due a tre di cui non è ancora sgranato il gruppo Tanto che, lo diciamo, siamo già andando il giro d'arrivo per i punti di meno 8 14 e 63 passaggio del meno 8 Trappa di Donio Valdezio 33 e 114 è il passaggio dei meno 7 Si tratta di un proverbio Tomi, con i primi due punti E il gastal di Giallo, primo punto anche per lui 33 e 114 è il passaggio dei meno 6 3 metri, quindi il passaggio è passibile Questa coppia di atleti sembra abbia fatto un po' di vuoto, una ventina, trentina di metri di vantaggio sul terzo inseguitore 33 e 114 è il passaggio dei meno 5 33 e 114 è il passaggio dei meno 5 Passaggio dei meno 4 114, 33 è il passaggio meno 4 Si è accacciato la testa a Briano alla coppia di testa Tenta di portare un attacco per il traguardo del meno 3 33 e 114 è il passaggio dei meno 3 33 e 114 è il passaggio dei meno 3 34, 34 e 114 è il passaggio del passaggio dei meno 2 14, 34 è il passaggio dei meno 2 114 è il passaggio dei meno 2 214 è il passaggio dei meno 5 Ammunizione per l'atleta 111. 114.33 passaggio di Meluno, abbiamo sentito una campana per l'ultimo giro e intanto c'è stata un'ammunizione all'atleta Ricca Mattia 211. Ricca l'arrivo, Ricca l'arrivo, punti per l'arrivo.